Musica Niente Pasqua in alta quota e stavolta non solo per la mancanza di neve ma per la chiusura della funivia Gran Sasso. Il Tar Abruzzo L'Aquila ha rigettato infatti il ricorso proposto dal Comune Aquilano per l'annullamento del provvedimento con cui l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e Infrastrutture Stradali e Autostradali ha limitato fino al 30 aprile prossimo l'esercizio della funivia del Gran Sasso con prescrizione della sostituzione delle quattro funi portanti. Lo rende noto il settore dell'avvocatura del Comune lasciando intendere che dopo quella data l'impianto chiuderà. Se ne prende atto si legge nella nota pur ritenendo la piena sussistenza dei gravi vizi dell'atto impugnato eppur rilevando che tutti gli approfonditi controlli eseguiti sulla funivia i più recenti sono stati conclusi nel corso di questa settimana assicurano la piena sicurezza dell'impianto e la regolarità del suo esercizio. Il Comune dell'Aquila si riserva dunque di impugnare la sentenza. Il blocco era stato ordinato dal Ministero dopo un esposto presentato da un appassionato di montagna alla Prefettura che poi ha inviato gli atti al Ministero. Di qui, dopo uno stop temporaneo, l'impianto è ripartito nel dicembre 2023 con la prescrizione però di chiudere il 30 aprile 2024 per i lavori di cambio delle funi. I costi dell'operazione sono importanti e non c'è certezza sulla tempistica.